Assessore Nadia Bala, oggi parliamo di centro antiviolenza del Polesina e relativa a casa rifugio. Facciamo un po' il punto su quelle che sono le attività e i finanziamenti a questo servizio. Certo, allora ci tengo molto a specificare perché in questi giorni si è parlato molto di centro antiviolenza e casa rifugio e dicendo che questa amministrazione non teneva a questo servizio. In realtà questa amministrazione tiene molto questo servizio e infatti io ci tenevo molto a incontrarvi per quale motivo? Per darvi qualche dato. Vorrei partire proprio sull'impegno di spesa che c'è stato in questi ultimi anni, a partire dal 2020 dove c'è stato un impegno di spesa di 78.951 euro e ad arrivare con un aumento nel 2021 di 134.000 euro erotti e nel 2022 c'è stata una diminuzione e quindi parliamo di 123.936,81. nel 2023 137.67 e nel 2024 parliamo di 192.500,26. Perché sono partita da questi dati? Sono partita da questi dati per dire che innanzitutto non è solo un impegno da parte di questa amministrazione comunale nel vuole gestire al meglio l'appalto che c'è in essere ma da parte anche regionale, ministeriale c'è un mosaico di fondi che supporta il centro antiviolenza e la casa rifugio. Ci tengo molto a specificare anche la questione che pochi hanno compreso e capisco anche perché è un affare prettamente economico quindi bisogna capire un attimino. Quindi in termini semplici cercherò di spiegarvi cosa è successo in quella variazione che in molti hanno visto in consiglio comunale. Una variazione che è stata fatta semplicemente perché noi abbiamo un appalto con una cooperativa che è la Domi Group. Questa cooperativa praticamente con del personale e con dei servizi ci garantisce la copertura del servizio. Ovviamente cosa succede? A livello economico è possibile secondo il codice degli appalti fare un aumento o una diminuzione di un totale del 20% non di più, 20% massimo. Quindi cosa è stato fatto? Vi dico ovviamente la cifra esatta che è 27.000, scusa un attimo che la trovo, non la trovo, no perché eccola qua, 27.764,86. Vi stavo guardando il totale per quale motivo? perché in realtà c'è una suddivisione. Per quale motivo? Perché si è investito per 5.000 euro innanzitutto e per un periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 per dei percorsi educativi e 22.764,86 per un aumento ore del personale e per garantire una copertura totale di 24 ore su 24 e ovviamente aumentare anche gli sportelli decentrati. e tutto questo è importante comprenderlo per quale motivo? Perché innanzitutto ci sono stati in questo periodo un aumento di fondi che non ci si aspettava. Ovviamente era già stato utilizzato il quinto d'obbligo, di conseguenza non si poteva aumentare di più. Vi garantisco che gli uffici, perché ci tengo a dire che questa variazione di bilancio è stata richiesta il 23 di maggio, noi siamo arrivati molto più tardi, ma ciò non significa nulla, perché in ogni caso anche se fossi stata qui questa variazione di bilancio andava fatta ed è sempre stata fatta, perché anche gli anni precedenti fate conto che per circa 10.000 euro a variazione si è sempre fatto, ma per quale motivo? Perché c'è semplicemente una difficoltà proprio nella rendicontazione. Essendo un appalto solo di un anno diventa proprio complesso gestire fondi che arrivano, però richiedono anche dei tempi limitati, quindi ovviamente anche il centro stesso se richiedo ad un centro antiviolenza di farmi dei percorsi ad esempio nelle scuole in tot mesi e dover fare una tipologia di lavoro che in quel momento io non mi posso permettere perché ho delle donne con minori da tutelare, ovvio che tutto questo diventa complesso. L'obiettivo per il futuro qual è? Innanzitutto rassicuro i cittadini e tutte le donne che assolutamente non è stato tolto un euro al centro antiviolenza. La copertura del servizio c'è e continuerà ad esserci. Ci tengo a dire che continueremo a lavorare per migliorare queste criticità e ovviamente chiederemo il supporto perché non l'ho detto ma ci tengo a dirlo che allo stato attuale c'è un fondo, è un fondo che copre i primi sette giorni alle donne che si rivolgono al centro antiviolenza quindi vengono messe in tutela e i giorni successivi quindi dall'ottavo è il comune di residenza che si occupa di pagare la quota. L'obiettivo qual è? L'obiettivo come comune di Rovigo è parlare con gli altri comuni, fare in modo che questa quota aumenti, aumenti perché ci sia una copertura per più giorni, perché queste donne devono avere non solo la tutela continuativa ma non deve essere un peso per quei piccoli comuni perché abbiamo comuni che veramente pagare delle spese così importanti hanno delle estreme difficoltà.